Buona serata in musica con Celestial Song Radio Celestial Song Radio Relaxing music for your spirit Welcome to Celestial Song Radio Il sole sei tu e la luna sei tu e il vento sei tu Nuova era Peto e la luna sei tu e la luna sei tu e la 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 Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. , , a tutti. a tutti. , , a tutti. ,... , , , , , , , ,... ,... ,... ,... ,... ,... ,... ,... ... ,... ,... Bellissimo brano questo dei Sweet Coffee, High in Love qui su Celestian Song Radio Marcello Ettoni in studio con voi Nuova Era, programma di musica New Age Ethnic World Music per il vostro relax serale e ovviamente siamo arrivati alle 19.30 di questo 17 dicembre 2013 da che ci stiamo avvicinando al Natale bene 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 allora dopo Sweet Coffee con High in Love prima di andare con uno stacco pubblicitario io vi faccio ascoltare questo bellissimo brano di Alberto Grollo Acoustic World Grazie a tutti 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 Buona serata in musica Grazie a tutti 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 Il brano che abbiamo ascoltato prima erano i Luxury Grove, bellissimo, veramente bellissimo brano che ci ha accompagnato in questa serata del 17 dicembre 2013, ci sono le 20 e 16 minuti e siamo passati adesso ad un altro bellissimo brano Grove, ovviamente adesso siamo un po' su questa, diciamo, onda musicale e loro sono i Lux con Sunset Disco. Grazie a tutti. 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 Chiudete gli occhi e rilassate la mente. Marcello Ettono. Nuova Era. Bellissimo brano questo di Iroko Kukukubu. Lula B of Dakeda. E lei è la grande pianista giapponese, bravissima, famosa in tutto il mondo. Ho voluto appunto farvi ascoltare questo bellissimo brano. appunto di Iroko Kokubu siamo arrivati alle 20.28 fra poco ci salutiamo e spero insomma che insieme vi siete rilassati in questa prima puntata di Nuova Era per quanto riguarda la nuova stagione di Celestian Song Radio che ha riaperto i battenti appunto verso la fine di novembre e non mi chiamate in diretta per favore perché è un problema, non posso rispondervi ma soltanto tramite sms, anzi vi do anche il mio numero di telefono per quanto riguarda appunto i vostri sms ma non chiamatemi in diretta 340 555 7682 edifici Grazie a tutti. 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 Buon a tutti. 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 e vi tutti. a 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 tutti.